Mario, siamo stati contenti per quello che ha fatto contro la Juve, sinceramente abbiamo goduto. Io ero allo stadio, tra l'altro, a vedere Benfica-Juve e speriamo che stasera faccia il bravo, insomma, dei suoi ricordi passati con la nostra maglia e che faccia una partita sotto tono. No, quello che mi spiace, allora, di Gio Mario che sta facendo bene al Benfica, la cosa che mi spiace è che non ha fatto bene anni prima, perché ce ne saremmo liberati prima. Quindi, una piccola provocazione, ci sta, dai. Gio Mario, spero che stasera non faccia niente di che, faccia quello che faceva all'Inter. Io Gio Mario, se gioca come giocava all'Inter, va benissimo. Doveva fare nell'Inter, non l'ha fatto e speriamo che non lo faccia anche stasera. Grande che hai segnato la Juve.